ragazzi buonasera buonasera a tutti una trambata allucinante allora ieri già stavo un po non so se quando vi succedono tante vicissitudini avete voglia solo di dormire e ieri ho dormito quasi tutto il pomeriggio anche perché non mi andava di fare video non mi andava di stavo stavo scazzata e però grazie a dio devo dire oggi che non ci posso manco stare perché dio ieri veramente un miracolo allora ieri alle 18 mi sono svegliata e poi mi sono messa a conversare con un'amica fino a mezza fino alle 11 10 e mezza non sentivo più da tempo e è stata una bella chiacchierata mi sono sentita avandala oddio non mi posso mancare un po' di gocci mi sono sentita meglio mi sono sentita un po' risollevata tutto quanto a che il telefono si spegne perché avandali oddio ragazzi il telefono si spegne perché comunque quando chiacchieri è per troppo tempo ma stamattina veramente e insomma il telefono si spegne e lo metto caricare e vado da mio figlio nel frattempo che abita qua vicino a prendere due noci di cocco che lui ce l'ha sempre nell'acqua li porto i libri da spedire e io vado lui non c'era e io mi riavvio per casa per vedere se il telefono si era un po' caricato per richiamare ma questa amica a vedere se per dirgli guarda che si era spento il telefono e tutto quanto a un certo punto io ho le scale come voi avete visto la casa sola con delle scale e ciò le persiane adesso vi faccio vedere che cosa ho combinato ieri oddio mamma ea pozza fuce levati allora io ho queste scale queste sono le scale queste sono le scale da dove sono risalita io perché adesso io se levo qua le scale questa persiana questa persiana che fa 20 chili e passa questa persiana non stava legata da questo angoletto non stava legata da questo punto e andava per qua e la andava un po' di là e di qua io non me ne so avvandali io perché questa persiana la apro cioè la chiudo per fare fresco e poi la apro la sera quando è più fresco no praticamente l'ho presa di testa l'ho presa piatta di testa qui io ancora mi rendo conto come caspito ho fatto l'ho presa piatta di testa e la persiana è volata cioè ha volata e volata vabbè vedete voi è volata ha volato ha volato in dialetto ha volato vabbè la persiana è volata è andata a finire addirittura a metà della strada oltre oltre le scale al che io ho detto sono morta sono morta cioè mi sono sentita un calore addosso che pensavo che era il sangue che usciva la paura perché io poi c'ho gli attacchi di panico incredibile quindi sono risalita a casa ho preso un pezzo di carta mi sono iniziato a tamponare per vedere se c'avevo il sangue mi sono guardata ho fatto così non c'avevo niente e mi sono incominciata a mettere l'attivia della just perché quella è per le contusioni per le cose mi sono incominciata a imbappare tutto qua dopo di che io non vedevo più niente raga vedevo tutti i puntini papattelle alle occhi le papattelle ho incominciato a vedere tutto questo e mi sono seduta là fuori non so perché mi sono seduta là fuori a piangere al che ho visto che è venuta una mia amica una mia amica perché erano andate al bar e vedevano che io non rispondevo ma io non rispondevo non perché perché da le 8 a le 11 stavo parlando con quell'altra amica quindi si sono spaventate si sono spaventate è venuta questa amica mia e mi sono messa a piangere mi sono messa a piangere mi ha portato in ospedale e da lì io non ho capito niente mi hanno dato il codice rosso mi hanno portato dentro poi mi hanno messo in un mezzo cullare qua tutto quando portatevi dei fastidi mi girava insomma mi hanno portato dentro mi hanno fatto le freppo mi hanno massacrato perché io non trovo le vene non mi si trovano le vene qua mi hanno massacrata mi hanno insomma quelli insistevo insistevo ma se ne trovo porco due chiamo uno più bravo no che cazzo ti vrici chi vrici chi vrici chi vrici chi vrici chi vrici chi vrici mi hanno massacrato le mani le pite le gambe e vabbè a un certo punto mi portano a fare l'attack e l'attack in grazie a dio cioè in grazie a dio veramente ragazzi io qua è pieno di pernoccoli e non mi posso nemmeno toccare non posso nemmeno passare le mani e i capelli perché mi tira e mi fa male però dice in grazie a dio che non c'è nulla non c'è matoma non c'è niente perché io la paura la mia paura è che col bernoccolo non uscendo il sangue poteva fare matomi e che insomma mi cioè sai quanto scoppia dentro perché non uscito il sangue fuori invece in grazie a dio no però mi gira la testa mi sento un po' rincoglionita penso che sia normale e il medico era un simpaticone era non era italiano mi ricordo egiziano è un egiziano e poi andali mi ha detto signora tua testa è molto più forte di di serranda di persiana in effetti queste sono pesanti sono pesanti forti la coccia mia è stata il più forte meno male e spero che non ho ritorzioni perché lui mi aveva detto a mezzogiorno torni a fare un'altra attack ma io non ci sono andata perché non ci sono andata lo so sbagliato non ci sono andata però non ho non ho sensazioni di nausee di vomito c'ho solo un mal di testa no mal di testa mi sento rincoglionita e mio figlio quando mi è venuto a trovare mi ha detto mamma il medico ha detto che ti sei ripresa ti sei ripresa e ha detto prima era storta un po' la testa ora sei diventata dritta mi hanno fatto fare una risata cioè praticamente si dice che la prima botta ti fa la seconda ti riprende io sto talmente ringollita che niente non lo so non so quello che mi succede l'unica cosa che mi hanno detto di buono è che mi hanno fatto le analisi e questo mi fa veramente non piangere ma di più ieri ho pianto tanto quando mi ha detto che io oggi posso anche vandali voi ve l'ho detto che io l'anno scorso feci una cura molto potente per il fegato per togliere debellare l'epatite C questa volta io per quando sono diventata immune come si dice non portatrice proprio cioè o portatrice sana insomma non so come si dice comunque posso anche donare il sangue quindi questa è stata per me una notizia bellissima non perché io voglia donare il sangue ma perché cioè perché se ti succede lo puoi fare invece prima dicevo se mi muore manco l'organo posso dare a poco da us era sempre un limite i limiti fanno sempre male fanno stare male per quanto riguarda il fegato poi faccio tutte le mie analisi ha detto che sta bene i reni tutto quanto il transaminasi a 43 quindi vedete un po' tu vedete un po' voi e sono felice e quindi devo ringraziare davvero Dio per questa per questa cosa perché veramente con una trambata del genere potevo spaccarmi la testa in due come un cocomero anche se oggi so mi sento come se le persone mi bussano di continuo in testa fa boom boom è maturo è maturo spero che non mi venga niente nelle prossime ore ma credo proprio di no speriamo io vi mando un bacio grande e ho fatto ho fatto una botta comunque oddio non lo so vuol dire che la come dice la mia nonna la mia cartella ancora esce però dice quello ce la stimmette tutto per farti fuori evidentemente devo ancora stare a rompervi le scatole quindi grazie ragazzi e grazie a Dio sono ancora qua ciao a tutti ciao a tutti